Molto partecipato il convegno sulla normativa anti-riciclaggio voluto da Banca Valdichiana e ospitato dall'auditorium dell'Arezzo Fiere e Congressi. Un convegno che è servito non solo a formare il personale della banca ma che è allargato anche ai professionisti, quindi avvocati e commercialisti che ovviamente hanno a che fare con questa normativa. Indubbiamente il ruolo delle banche riguardo all'anti-riciclaggio è fondamentale. La banca ormai è una normativa per certi aspetti abbastanza consolidata perché viene da lontano. È chiaro che il ruolo della banca è sempre un ruolo anche più attivo e quindi è un ruolo che non deve fermarsi naturalmente a dei semplici segnali di quello che può avvenire ma deve approfondire sempre di più le eventuali situazioni particolari che si possono presentare. Quindi anche in questo la nostra banca comunque avendo una conoscenza molto diretta e molto vicina al proprio cliente è in grado anche poi di valutare quali sono le operazioni e le situazioni da segnalare, da approfondire rispetto a quelle che magari soltanto apparentemente possono dare qualche piccolo segnale di anomalia ma che poi sono riconducibili alla situazione di normale operatività. Sappiamo tutti benissimo che il riciclaggio dei capitali sta portando nelle città grosse problematiche da un punto di vista economico e non solo. Pertanto capire la normativa bene come va a coprire questa attività. Poi ovviamente abbiamo voluto affrontare il tema rapporto banca-cliente perché capire sia noi della banca ma soprattutto anche i clienti quella che è la portata della normativa facilita poi quella che è anche l'operatività, il contatto quotidiano con il cliente. Qualche mattina ci poniamo su un'operazione con il cliente davanti quasi a fare un interrogatorio, gli chiediamo tutta una serie di informazioni che andiamo a recepire con il cliente, riempire i questionari per la maggiore verifica che va effettuata sull'operazione. Anche noi vogliamo essere nello stesso tempo discreti, vicini al cliente quando facciamo questo tipo di attività, nello stesso tempo un grande rispetto della norma perché questo deve essere assolutamente fatto perché poi ci sono responsabilità anche penali dal punto di vista degli addetti al lavoro. Perciò è una normativa che va a toccare quel confine, quella sfera personale che nel rispetto della norma va anche gestita in maniera coerente nel rapporto quotidiano con la nostra clientela.